Estra è pronta lo sbarco a Piazza Affari dopo il via libera del Consiglio Comunale di Arezzo per la quotazione in borsa della Multi Utility Toscana a partecipazione pubblica che si occupa di energia. Finalmente il Comune ha dato avvia questo procedimento. Perché la quotazione? Estra è una grande realtà territoriale, è un'azienda che è ormai nelle top 10 del settore energetico. È un'azienda che ha una grande capacità di autofinanziamento, però le sfide prossime comportano un fabbisogno notevole. Ci sono a breve le gare per la distribuzione del gas, ci sono continue opportunità per consolidarsi sia sul piano interno delle nostre partecipazioni sia per acquisizioni esterne. E questo fabbisogno finanziario potrà essere meglio affrontato quotandosi, cioè ricavando da un azionarato diffuso, da una quotazione, risorse importanti che andranno in parte anche a dare un sostegno importante alle nostre amministrazioni comunali che sono i soci indiretti. Perché parte della quotazione sarà destinata a ristorare i soci indiretti. Soci pubblici che rimarranno con la maggioranza. Il prossimo passaggio è lavorare insieme ai soci Coingas, Consiag e Intesa ai patti parasociali che poi diventeranno patti di sindacato dopo la quotazione. Quei patti che regoleranno la governance di questo 51% o forse più del capitale pubblico. e non solo, per quanto mi riguarda sarà anche l'opportunità per ridiscutere anche i ritorni in termini di investimento nel territorio, occupazionale. Io non voglio dimenticare che questa è un'azienda di origine pubblica che è legata al territorio e che nel territorio c'è bisogno di ritorni in termini economici e anche occupazionali.